Veniamo ai nostri giorni, ai fatti di Parigi, vedere queste immagini, persone che aprono il fuoco su gente enerme, kamikaze che si fanno esplodere in nome di una religione o di un credo politico. Che effetto le fa? Penso al terrore che quelle persone hanno pensato in quegli attimi. Lei oggi ha paura? Guarda, sono sincera, io come tutti quanti, la vita va avanti, devi andare avanti, non la puoi fermare, non ti puoi fermare, non è possibile fermarsi. Adesso ho una figlia e mi è ritornata la paura. Prima dovevo sperarlo, quindi sono la prima che ha voluto andare dentro l'aeroporto e mia madre mi ha fermato e sono la prima che voglio viaggiare, vedere il mondo. Adesso ho paura, sì. C'è un po' di paura, ce l'ho. Quando lei è nata, io ero felice, però pensavo, ok, ho messo una bambina al mondo, io so quanta violenza e quanta cattiveria ci può essere nell'uomo. Quali sono i limiti che possono essere sopra... cioè, che un uomo, a cui un uomo riesce a arrivare, no? Nel senso di uccidere, cioè nel senso adesso ho paura per lei. Grazie. Grazie. Grazie.